buongiorno buongiorno dal dottor claudio sarascino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola oggi ragazzi parleremo di ambiente 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 in cui noi viviamo della mattina alla sera e rispondo soprattutto a tutte quelle persone che mi hanno ringraziato a spada tratta per gli audio mp3 che si sono scaricati e che hanno ascoltato tra virgolette perché non si ascolta di fatto per le loro per i loro problemi per i loro casi per i loro limiti per le loro esigenze bisogni e desideri si parla di ambiente perché perché per con un solo audio mp3 dcs tu scalfisci sbricioli rendi sabbia la roccia la pietra dura ok le mie parole le mie suggestioni gli audio mp3 dcs servono per sbriciolare tutto ciò che di negativo per il tuo caso sia per te che per il tuo caro esiste nella tua vita quindi se una persona facciamo degli esempi pratici si scarica no depressione oppure si scarica no panico no ansia no stress eccetera eccetera ottiene miglioramenti incredibili ci sono persone che in un anno secondo in un solo secondo eliminano il problema completamente dalla sera alla mattina per sempre ci sono persone invece che stanno bene per tot mesi ci sono altre persone che dopo un po più di tempo risolvono il loro problema però una cosa è certa che il problema va via cosa invece definitivamente o quasi vicino al cento per cento cosa invece bisogna dire che fino ad oggi non è mai stato detto che tu con un solo audio mp3 dcs attenzione perché se ne prendi insieme li metti in una cartella ad esempio no panico no ansia no depressione molto controllo dei nervi no passato negativo salute ed esito ego entusiasmo li metti insieme li fai girare seguendo le istruzioni alla lettera che sono facilissime a prova di nonna a prova di pigro a prova di idiota bene tu naturalmente elimini più velocemente e più in profondità i tuoi problemi che tante volte siccome il sottoscritto e gli associati dell'associazione ipnosi associati della di los angeles non fanno non facciamo diagnosi non facciamo cura facciamo terapia non sappiamo qual è il tuo vero problema sei tu che scegli che decidi ecco perché si chiama auto ipnosi dcs cioè l'ipnosi dcs vera e professionale fai da te che ti fai da solo con un solo audio magari che ti scarichi dai da dal sito internet al mio sito internet però inizi così vedi miglioramenti senti nel corpo nella mente nella tua vita delle cose mai sentite prima ad ora e anche per il tuo caro però ricordati esiste sempre l'ambiente quindi puoi ricadere magari fra sette mesi un anno due anni nella situazione precedente se tu magari hai smesso di utilizzare l'audio mp3 dcs che cosa fare ci sono soltanto due strade o abbandonare il vecchio sentiero il vecchio acquario il vecchio ambiente in cui sguazzi ti trovi e dici basta voglio cambiare vita voglio andarmi il che è molto 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 difficile oppure soprattutto per chi non vuole il tuo aiuto il tuo caro sta sempre in quella casa in quella famiglia non può veramente scattargli la molla oppure oppure rimettere l'audio dcs non stop visto che non ti ruba tempo non richiede la tua partecipazione non richiede il tuo permesso non stop quando senti le gomme sconfie rimetti l'audio mp3 dcs oppure ti scarichi altri audio per aumentare da più angoli da più angolazioni lo spriciolamento famoso della famosa pietra roccia che in questo caso metaforicamente il tuo problema ci sarebbe una terza strada che purtroppo al momento siccome ho sospeso le sessioni online di ipnosi dcs non faccio ci sarebbe la regressione al passato che significa regressione al passato significa eliminare facendo regredire ipnoticamente con l'ipnosi dcs vera e professionale una persona alla prima volta in cui si è sentita in quel modo quindi alla vera causa la prima volta che lo ha portato e che ogni volta che qualcuno faccia un esempio mostrasse quel colore dicesse quella parola si sentisse quell'emozione in automatico la persona si sentiva con le gomme sconfie naturalmente trovata la causa trovata la soluzione perché tutto sta qui ragazzi però questo è un qualcosa in più diciamo che accelere il tutto ma ricordati anche con un solo audio mp3 dcs centinaia centinaia di persone hanno risolto il loro problema e anche il sottoscritto che dal 2008 ad oggi si auto ipnotizza h24 anche se non sembra adesso sono ipnotizzato e non sembra perché poi di riprosi non vuol dire nulla e la mente dell'essere umano che sa ha il potere si sa cosa fa e senza nessuno nessun effetto collaterale che che ne dica qualche guru della scienza moderna perché l'ipnosi dicesse un metodo unico al mondo ipnosi dicesse vera professionale che non è uguali nel mondo non è uguali e non si può paragonare nell'ipnosi fuffa né l'ipnosi conformista commerciale né all'ipnosi da spettacolo neanche al mondo dell'ipnosi che si studia a scuola di fatto perché perché le suggestioni sono diverse il metodo diverso l'esperienza storica è diverso e nasce a los angeles beverly hills a due grandissimi della ipnosi vera e professionale con la v maiuscola la dottoressa lina brunini il professor dottor miguel angel garai che staranno con me per tutta l'eternità anche quando il sottoscritto andrà nelle prossime vite e non scherzo il fatto che poi la tv la società in mass media il marketing non abbiano pubblicizzato la dottoressa lina brunini il professore garai come milton erics development braille west non significa nulla tante volte il fatto di essere reclamizzato non significa di fatto essere più importanti ok o i più bravi ricordati nella piramide sociale in tutto il mondo chi sta sopra non per forza il più bravo va bene quindi ricordi l'ambiente fondamentale però se tu utilizzi gli audio oppure l'ipnosi di cs vera e professionale lo annulli completamente completamente senza ma senza se quindi chiunque di giri attorno chiunque un tempo ti faceva perdere la pazienza ti faceva deprimere la tv ad esempio non è un altro parametro fattore che ti può far tornare con la mente a delle cose brutte tristezza paura odio rabbia no bene con le mie parole con gli audio mp3 dice se tu li elimini completamente li annulli e più perseveri più insisti visto che non ti ruba tempo non ti ruba spazio non ti ruba impegno non ti stressa il metodo di cs bene più nessuno entrerà qui e nessuno entrerà qui e tu vivrai veramente al top del top come è successo a me come succede a me come succede a centinaia e centinaia di persone nel mondo non credere a nessuna parola documentati oggi hai questo nelle tue mani che si chiama cellulare l'università nelle tue mani non credere a chi ti da chi ti dice impossibile a chi dice non c'è nulla da fare non devi credere perché se io avessi creduto a questi signori mio padre sarebbe morto nel 2008 invece vissuto fino al 2018 oppure forse neanche io starei qui se non avessi incrociato l'ipnosi e soprattutto l'ipnosi vera professionale della dottoressa rina prunini nel 2008 a causa dell'ictus capitato mio padre per cui funziona non ho nessun interesse a dire una cosa per un'altra perché grazie a dio economicamente non ho bisogno di mangiare vendendo audio mp3 che non vende il sottoscritto ma vende l'associazione i prologi associati in base al paese in cui tu risiedi nel mondo e la mia è soltanto finché sono su questa terra finché respiro finché cammino un'ispirazione un input un quid perché tu capisca che esiste un'altra chiave per la tua vita e per la vita dei tuoi cari dei tuoi figli anche se non vogliono perché un'altra caratteristica che distingue il metodo di cesser l'ipnosi di cesser degli altri tipi di ipnosi conformista commerciale e che tu puoi utilizzare anche contro la volontà e sempre a fin di bene di chi non vuole il tuo aiuto fammi tutte le domande il caso che risponderò gratis compatibilmente ai miei tempi impegni visita il mio sito internet www.ipnoregiassociati.com visita la mia fan page su facebook www.ipnoregiassociati.com